bella ragazzi bentornati qui sul mio canale oggi siamo qui con un video specialissimo perché siamo con una sfida di calcetto che non mi portavo tipo da aprile ma vabbè mondialito challenge anche un ospite specialissimo che vi do a fare un passo in avanti senza di lui non potremo giocare ma a parte il pallone abbiamo anche leonora lei è una pazza e mi ha lasciato il suo numero sotto un video ho detto questa è una pazza però ci ha avuto due palle così spero di no perché poi no nel senso che e quindi di conseguenza l'ho sfidata lui invece farà il portiere di questa sfida incredibile facciamo tre set no pausa fiato grande parata di noia attenzione ma io c'ho un'idea ma io c'ho un'idea facciamo dei cortecchi e lui si arrende così Intanto la conosco ragazzi, il vigno ha la riscosta A few moments later Oh! Balla, dai Senza camera non potrebbe essere difficile Ringraziamo Ale che fa il camera, me ne ha perso una costola Ragazzi Federico Marconi odia i suoi fan e suo cugino Esatto, imparate Attente voi donne È rigore Fuori dall'area Totti Totti con il palloso, a parte con Palotelli non me lo ricordo Il momento della verità Sì Poi dicono ragazzi fate ginnastica Ma no ti pare, ecco se facevo ginnastica non mi sentivo tutto questo dolore Ma pareggia subito 1 a 1 Aspetta com'è chi fa questo gol vince o chi arriva a 3? Chi arriva a 3 Sì La sua espressione non è molto... Oh! Punta! No! A calcetto ragazzi così si gioca! Muori così! Ehi gnocco bello se me la chiedi io te la do qui su due piedi Per calma Per calma Per la fede esci No! Oh! Oh! Per fare io che cicciolina in vita sua! Ah! Ormai è scontato ragazzi! Per la fede esci No! C'era sicuramente una foglia per terra! Infortunio! C'era sicuramente una foglia per terra non ci credo! Sì! Sì Fede! No ragazzi è complotto! Fede! La foglia assassina! Tenta il biscotto? Tenta il biscotto? Ehi! 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 Primo piano sul... sul... Fede Marconi! L'hai in cula! Ehi! 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 Dove ti ha messo il ginocchio? Ha detto mi hai messo il ginocchio nel culo! Eleonora! Emozioni a caldo? Su questa ginocchiata nel culo? Eh beh sicuramente... Oh! Sicuramente il caldo l'ha sentito! Aspetta! Non ti ripeti! Sicuramente il caldo l'ha sentito! Vabbè quello è ovvio! Ma se l'ha stoppato? No! Ah che cazzo del pene! Eh... Ho inquadrato l'altra panchina! Tu hai problemi! Ehi! 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 Uno! Ciao mamma! Allora! Il mio giudizio sulla partita sicuramente è positivo! Perchè... Quanto mi ha fatto correrei? Non se sa! Passate anche dai social del mio cuginetto! Attente! Soprattutto alle ragazze perché potrebbe superarvi! E ringraziamolo soprattutto perché ha fatto appunto il cameraman! Penso che sia stato bravo! E' stato magnificato! Dopo che vedo le riprese se non è stato bravo taglio sta parte! Noi ci becchiamo con i prossimi video! Venite qua! Venite qua e facciamo l'altro! E... Come detto spero che questo vi sia piaciuto! Trovate un po' tutti i social qui sotto in descrizione come al solito! E... Niente! Se non lo siete già iscrivetevi al canale! Noi ci becchiamo nei prossimi video! Alla Fizz Gamer! Cari come nemmai! Bella raga!